Da oggi inizia un nuovo ciclo di duro lavoro per ogni cittadino e cittadina della Grecia. Queste le parole di Kiriakos Mitsotakis al momento di ricevere dalla Presidentessa della Repubblica il mandato a formare un nuovo governo. Una vittoria netta che ha visto il Partito Conservatore Nuova Democrazia ottenere il 40,52% dei voti e aggiudicarsi 158 seggi su 300. Grazie a questi numeri Mitsotakis potrà governare da solo senza dover cercare nuove alleanze. Il nuovo meccanismo maggioritario infatti prevede che il partito vincitore delle elezioni ottenga 20 seggi in più se raggiunge il 25% e a salire fino a 50 seggi in più se raggiunge il 40%. Una prova di piena fiducia da parte degli elettori greci che non è stata scalfita dal pugno duro dimostrato sul tema delle migrazioni dopo le testimonianze dei respingimenti in mare e il tragico naufragio avvenuto a Pilos in cui si stimano circa 600 vittime. Un risultato schiacciante che determina il tramonto di Siriza, il principale partito di centro-sinistra guidato da Alexis Tsipras, che rimette al partito il suo mandato. Siriza si è fermato al 17,84% e ai 48 seggi, seguito dai socialisti del Paso, che è il Partito Comunista Greco, ritorno in Parlamento anche dell'estrema destra. Spartani, partito sostenuto da un ex membro di Alba Dorata, partito xenofobo e violento messo fuori legge nell'ottobre 2020, ha ottenuto il 4,72% e 13 seggi. Scarsa l'affluenza alle urne, meno di un elettore su due degli aventi diritto. Grazie. 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 Grazie.